Gli spettatori sono 45 mila, qua di Uvata da Guardialine, Foletti e Lodi, arbitra il signor... Sì. Amore, dimmi. 4,2 kg, ma un maialino, ti salvo. Sì, 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 ma tutto. Oh ragazzi, stasera tutti a cena da Peppino. Paglio papà. Qualunque sia la spesa, c'è personal credit. Il prestito da 1.000 a 30.000 euro. Scopri i vantaggi all'800 099 099 o presso le banche del gruppo BPL. Dove sono finiti tutti? Da Peppino. Dove sono finiti. Dove sono finiti. Dove sono finiti.